Sara Diegoli, 29 anni, mi occupo di contrattazione per la categoria dei pensionati e dell'Emilia Centrale. Ho scelto questo ramo perché per esperienza personale di vita vissuto sono interessata ai temi della contrattazione sociale, in particolare gli aspetti che riguardano la non autosufficienza e le politiche sociali in sostegno delle persone in difficoltà. Se fosse al posto della Furlan continuerei con l'opera di rinnovamento del sindacato, sia interno ma anche le politiche, per rendere ad oggi il sindacato più attrattivo, visto che soprattutto per i giovani facciamo molta difficoltà a essere attraenti. Sicuramente le relazioni, soprattutto con i coetanei pari, sono cambiate perché il modo di pensare è diverso. L'opinione pubblica vede il sindacato come non più attuale, qualcosa che non serve anche all'interno del mondo del lavoro, mentre invece per me che ci lavoro può fare tanto.